Picard su Iberga ha un vantaggio di 1,19 seconda, un vantaggio indubbiamente consistente, potrebbe essere un grande giorno per Fran Picard. Se immagini non ci permettono di vivere in usa, Picard nella sua carriera in Coppa del Mondo ha vinto due volte in Super G, una volta in discesa. Vediamo l'inazione sorribile. Ma non c'è una partenza pulita, 32,96, mantiene ancora 6 decimi, 4 decimi del secondo diciannoglio è un vantaggio, quindi se Frank non muore in questa seconda parte di gara rischia di vedersi sfuggire la vittoria, vediamo un po'. Iberga ha fatto veramente un recupero prodigioso, sicuramente ha aiutato, anche a Ia con il rovino potrebbe costargli 55, 53, 32. Per un 1, per due centenari, 4 decimi, 4 decimi, conquista la prima vittoria della sua carriera in Zalosiganzi, risultato veramente incredibile che nessuno avrebbe sottoscritto, prima inizia la gara, primo decimi, secondo Iberga, 2 decimi,